Il numero chiuso è una cosa stupida sicuramente, ma il numero programmato invece è una cosa sacrosanta. Chi dice di abolire il numero chiuso, il numero programmato, insomma, chi diciamo vuole l'accesso full, in realtà sta ipotecando, per come la vedo io da medico, il futuro della preparazione. Perché un medico per formarsi ha bisogno di stare in corsia, vedere pazienti, eccetera, eccetera, eccetera. Se io ho la capacità di formare decentemente 100 persone, non gliene posso mettere dentro 3000, perché significa che io vado sui numeri e non vado sulla qualità. Il numero chiuso, programmato, deve essere un numero, come dire, programmato con la testa, con la reale capacità formativa della struttura. Ma dire pace libera tutti, dentro tutti, senza poi pensare realmente a quelle che sono le conseguenze che questo provoca, è un'idiozia. Perché io ho bisogno che i medici di domani escano, avendo visto i pazienti, avendo fatto i tirocini, avendo valutato veramente il percorso, se no creiamo una laurea online, facciamo un laureificio e a quel punto possiamo dare tranquillamente il titolo a tutti coloro che si formano solo sulla teoria. Ma medicina e chirurgia non è una laurea solamente teorica, quindi va benissimo che il numero sia ampliato al massimo possibile della capacità reale che la scuola può avere. E che gli atenei possono avere. Ma non può essere un pace libera tutti, perché questo ottiene solamente dei problemi, non ottiene dei risultati in termini qualitativi. Noi dobbiamo trovare il miglior punto di equilibrio tra quantità e qualità, un po' come in tutte, come dire, le cose di questo mondo.